Vi vorrei tanto dire che sono stata qua praticamente più di un'ora, che ho quasi letto tutto il libro del mio amico Luca, che ho messo un sacco di abbronzante per voi, 50. Vi vorrei dire che tutto questo è nato per caso, vi vorrei dire che sono in completo relax, invece no ragazza, avevo 10 minuti, ho piazzato tutto qui, ho fatto la foto, ho detto mi vado a rivestire e vado a cucinare, ciao.